Caldo, nella città mia fa caldo, con lei che balla caldo, tanto quanto un forno caldo è caldo, ma me la canto è caldo, come il tuo impianto caldo, nella città mia fa caldo, caldo. Esco di casa una inoltrata e già nell'aria qualcosa di un po' diverso, non è più inverno, non è più... Delle spettatorie di Lucania TV.it, un cordiale saluto a tutti voi da Pino Carlo Magno, una nuova puntata da Panghino Frisco. Quest'anno, se ne potete dare conto, la nostra trasmissione ha molta presenza femminile e questo ci fa piacere, forse negli altri anni la maggioranza era quella maschile dei nostri ospiti, adesso abbiamo fatto un po' metà in metà. E a proposito di donne, abbiamo questa mattina a Panghino Frisco una imprenditrice, non che facende parte della Convartigianato, credo, locale, la signora Mara Cascino. Grazie Mara di aver accettato l'invito e ti volevo subito chiedere, che significa essere imprenditrice in un comune come Lauria? Beh, essere imprenditrice nel comune di Lauria, in un comune come Lauria, è avere un bel coraggio, diciamo così, che a me è partito già da un bel po' di anni. Sono oltre 20 anni che ho la mia attività e diciamo che sono contenta da un punto di vista di crescita che negli anni ho avuto, però certamente il territorio offre molto meno di quando potrebbe forse offrire una città. Però per me è stato sempre spunto di crescita, di innovazione, di studio e questo mi ha stimolato tanto e per cui insomma sono contenta di essere comunque in questo territorio, di aver fondato la mia attività qui. Sì, anche perché poi alla fine, sì, come sede ce l'ho qui, però io lavoro tanto in giro, sono sempre... Si muove bene. Eh sì, ma fa parte un po' del mio lavoro, insomma, cercare i clienti un po' altrove. Certo che la mia attività, il mio tipo di lavoro, insomma, è cambiato tanto negli anni. Prima ci occupavamo molto della carta stampata, ora siamo sui fronti social, molto su Facebook, molto su Instagram e ci siamo dovuti adeguare, quindi prendere i vari titoli, vabbè, è il mio lavoro che me lo richiede nella routine, aggiornarmi continuamente, però ancora di più con le nuove tecnologie degli ultimi momenti, ecco. E anche dopo il Covid, insomma, abbiamo avuto una bella flessione in basso dal punto di vista stampa, perché ormai non si quasi più fa pubblicità sui manifesti, sui volantini, ma si è utilizzato molto l'online e per cui è il social, ecco. E quindi a partire dalla formazione a finire alla pubblicità vera e propria, si è fatta solo lì e quindi bisogna specializzarsi in dar senso. Ecco, Mara, per quelli che non sono dei laurei e che ci stanno seguendo, tu l'hai già detto in parte, di chi ti occupi nello specifico? Allora, io ho uno studio di progettazione grafica, nello specifico, e mi occupo anche della realizzazione proprio fisica, stampa, appunto, piccolo e grande formato e poi anche per quanto riguarda la pubblicità sui social e quindi da poco sono anche social media marketing, ho preso un titolo proprio la settimana scorsa e per cui anche su questo mi sono formata. Oltre questo ho anche un negozio che si occupa di allestimenti e per cui tratto oggettistica per la casa e anche piccolo arredo, insomma, in generale, e anche oggettistica da regalo, ma questo perché è una sfera che mi piace, insomma, perché negli anni sono stata sempre molto in giro e quindi ho visto tante cose, mi sono occupata di tante attività. E in tutto questo, Mara, tu fai parte anche della Convartigianato. Sì, 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 la Convartigianato che ho porto nel cuore da quasi vent'anni, di cui faccio parte e a livello locale e soprattutto a livello provinciale, in quanto, insomma, io rivesto una carica della quale, come dire, non mi freggio dal punto di vista, come dire, a livello di nome soltanto, ma mi piace molto, come dire, essere parte di questa associazione perché io sono presidente donna in bresa a Basilicata. Da qualche anno, da poco presidente, sono stata vicepresidente già da moltissimi anni. Presidente perché il presidente si è dimesso e per cui sono presidente vicario, in effetti. Sono subentrata, momentanea, momentanea, fino a nomina regionale, insomma. E questa cosa mi piace tanto perché mi affascina molto il mondo femminile del lavoro. Senti, Mara, detto così, potremmo aprire un discorso, non vi rende mai la panghina, ma secondo te, dal rappresentante della Confartigianato, da imprenditrice grafica, che paese è il Lauria? Non dire le parolacce che non ci censurano, ma dal tuo punto di vista, siamo spesso, secondo me, ma io sono più grande di te come età, incontentabili. Non ci va mai bene quasi niente, diciamo la verità. Ma siamo così? E se sì, perché siamo così? Non lo so, in effetti, perché siamo così. In realtà, a me, come dire, all'interno di me stessa c'è sempre una verve di, come dire, di, come un fuoco ardente, come se fosse sempre il primo giorno per cominciare una cosa. E quindi ho sempre quell'entusiasmo, sempre quella voglia di fare, di ripartire. Penso sempre se magari avessi la possibilità, che ne so, di aprire un'altra attività, ma anche in altri ambiti, perché forse fa parte un po' della mia vena, essendo una creativa, allora mi viene di, come dire, investire in tante cose. Dal punto di vista, come dire, sociale, Lauria è un po' dormiente, devo dire, perché la gente tende anche, come dire, ad accontentarsi di quello che tiene o meglio, cerca di, come dire, trovare le proprie risorse altrove. E questo non va bene, perché, secondo me, il popolo di Lauria dovrebbe in un qualche modo concentrarsi a realizzare e a richiedere, soprattutto, ed essere pressante nei confronti delle amministrazioni, generalmente susseguite, insomma, negli anni, e fare richieste e non, come dire, fare la richiesta e mettersi a letto, a dormire, perché questo succede, perché a parlare siamo tutti molto, molto... I leoni da tastiera sui soci, ce ne sono tantissimi, però poi della fattezza delle cose, io sono stata parte di tante associazioni a Lauria, un po' in generale, commercianti, artigiani, insomma, cose varie, però vedo che c'è un fuoco ardente iniziale e poi dopo c'è un appiattimento totale, perché è come se si perdesse proprio la voglia poi di fare. E questa è la caratteristica, purtroppo, del nostro territorio. Dovrebbero esserci un pochino più dei punti fermi e magari, che ne so, bellissimo sarebbe delle strutture che non abbiamo, non abbiamo nulla, ahimè, purtroppo il palazzetto per la sciagura che c'è stata è fermo lì, non c'è il solito cinema, non c'è il solito teatro, non c'è nulla per attirare gente nel nostro territorio, ma soprattutto per far fermare i laureoti a Lauria, e questo è importante. E negli anni, sono passati tanti anni, però non c'è stato nessuno che ha investito in questo. E io credo che le risorse ci sono state, ce ne sono, ce ne saranno. Senti, ma c'è una notizia di gossip, tanto non sentono i show, così tramette, ma stiamo registrando, quindi magari poi non andranno in onda, ma andranno sempre chissà quando, quando... Senti, ma ecco, che sai questo gossip che colpisce Lauria, che all'inizio era tanto, frequentando il sociale, tu come pure io in parte, sto fatto che già mettevano zizzanesi due sacerdoti, non vanno più d'accordo, erano venuti per unire, ma che stanno, stanno disunendo, ma che vanno, che fanno, per chi? Sì, non so nulla, quindi chiudiamo. Ecco, lo sapea. No, io, allora, mi sento molto vicino alla parrocchia San Nicola, Santuario Beato Domenico Lentini, perché... Noi siamo, io e te, siamo del posto qui, non per niente, precisa, se no sinde. No, assolutamente, no, anche perché c'è un ottimo rapporto, anche con i vicini di casa, di chiesa, assolutamente, sono molto legata a tutti, insomma, anche alla parrocchia di Nemoli, visto che Don Antonio è di Nemoli, insomma, ecco, quindi sono molto vicino a tutti quanti, no, io penso che loro, innanzitutto, vabbè, e questo è stato detto da parte di tutti, hanno portato una ventata di gioventù e di bellezza in questo territorio e di iniziative a cui non eravamo proprio abituati più e quindi questa cosa, secondo me, è il bello che bisogna assolutamente cogliere e forse prendere anche spunto da queste, da questi due parrocchi, secondo me, particolarmente intelligenti, io li definirei, entrambi, perché stanno comunque creando un qualcosa di importante nel nostro territorio, soprattutto perché coinvolgono i ragazzi delle piccole generazioni e portandoli a una crescita vicino alla chiesa, ma anche se non è vicino alla chiesa, voglio dire, proprio dal punto di vista gruppo, ecco, quindi questo è bello, io sono mamma di una bambina di 11 anni e quando ho saputo che c'era un prete giovane sull'Auria, anzi due, per me è stata una ricchezza e anche una sorta di serenità, di tranquillità, con la speranza che mia figlia si avvicinasse alla chiesa quanto più possibile e in effetti... Ma fa proprio anche ricchetta... Sì, lei è ministrante, per cui è molto coinvolta, però sono contenta di questo perché spero che loro restino innanzitutto il più possibile, ma quantomeno nei dieci anni mi porteranno i miei figli all'università, insomma, quindi gli anni che legano Carolina da oggi alla crescita, voglio dire, scolastica, ci saranno e quindi questo per me è una ricchezza, quindi da mamma colgo questo. Poi le dicerie, ma secondo me sono veramente le classiche dicerie di paese perché tra di loro non ho mai visto screzi, pur vivendoli un pochino più da vicino, voglio dire, dal punto di vista, voglio dire, proprio amichevole, no? Non mi è sembrato che abbiano mai avuto degli screzi e che il territorio è portato, secondo me, a fare sempre un distinguo e quindi si parte dal basso, ossia noi che a superiore fanno questo e perché non lo facciamo pure a inferiore? Lo facciamo a inferiore e perché non lo facciamo a superiore? C'è sempre questa cosa, c'è sempre stata e quindi noi in primis ci dovremmo fare un mea culpa, secondo me, è un'analisi, un po' con un esame di coscienza, perché potessimo un pochino mettere a tacere queste chiacchiere che comunque, secondo me, sono proprio chiacchiere di basso livello. E sono delle terie? Delle terie, come tutte le chiacchiere stupide che si fanno perché lasciano il tempo che trovano. Se siamo un pochino superiori e vediamo il, come dire, il bello e l'interessante che c'è intorno a questi due parroci che stanno, ecco, al di là di tutto sono venuti veramente, non conoscendo il nostro territorio, si sono impiantati qui e si sono messi a lavorare senza pensare e senza dire a fare, appunto. E secondo me questa è la cosa più importante che li caratterizza. Poi magari, come dici tu, le amministrazioni prendessero spunto un po' da questo fare, è quello a cui vi riferivo prima. Per imitare i parroci che lo fanno già. Eh sì, esatto. Senza sentire le chiacchiere, perché le chiacchiere ci saranno sempre. Ci saranno sempre. Chiavo cozza, chiavo cruda, come diciamo, no? Poi ci sono tutte queste contrade. Ognuno vuole il proprio nucleo, è rispettabilissimo perché sono grandi, a volte sono dei territori ancora più coesi rispetto al centro. Assolutamente. E non ci dobbiamo però dimenticare che il centro abitato è questo. Cioè, la contrada vive di riflesso per il centro abitato, perché se muore il centro abitato non potrà vivere né con gli andrino, né se luci, né la melare, né il galto. È tutto collegato. Secondo me. Ecco, io ne approfitto, apro una parentesi veloce. Si parlava dei sacerdoti per ringraziare le tantissime persone, veramente migliaia di persone che hanno seguito in occasione dei dieci anni del sacerdozio di Don Michelangelo Crocco, il parroco del Rione Superiore, l'intervista, bellissima festa, lo stesso Don Michelangelo è rimasto un po', non si aspettava, migliaia e migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Quindi veramente grazie a voi che ci seguite con affetto. Ma ora stiamo per concludere. Velocemente, che estate auguri ai laburiotti? Auguro a questo paese di fiorire sempre. Tutte le stagioni. Tutte le stagioni, da tutti i punti di vista. Con tanti bambini presenti e anche persone adulte che questo è un fenomeno che mi permetto di dire perché i figli biecoetanei che sono andati via con l'università e si sono impiantati in altri territori lavorando e quindi poi mettendo su famiglia in altri territori, che cosa hanno fatto? Si sono riportati via anche i genitori e questa cosa non va bene perché ci svuotano anche delle persone anziane che in questo momento potrebbero dare tanto al nostro territorio con la loro presenza. È culturale, è fisica, è economica e per cui noi abbiamo una doppia perdita. Loro che se ne sono andati e anche i genitori e questa cosa ci dispiace tanto. Per cui speriamo che questi genitori rientrino nelle loro abitazioni qui sul territorio perché tante case le vedo chiuse, addirittura le mettono in vendita per acquistare a Roma, a Milano, a Livorno perché giustamente pur di star vicino ai figli e crescere i nipoti dopo tanti anni di sacrifici si ritrovano a fare questo tipo di scelte. Questa cosa è un po' un dispiacere però cerchiamo di far rientrare qui. Oltre che magari sarebbe bellissimo i nonni, anche i figli, ma questo è un'utopia. Quando meno di far crescere il territorio e farlo fiorire quando più possibile, soprattutto tanta serenità auguro a questo territorio. Speriamo che non non ci siano brutte notizie come tante volte d'estate capita. Noi vogliamo che ci sia la tranquillità, che poi ci va bene anche quello che abbiamo. Viviamo anche di quello che abbiamo, accontentiamoci perché fino a che c'è la salute e si sta bene va bene anche così. Perché io dico che la serenità che ci dà il nostro paese è impagabile e non la ritroveremo da nessuna parte. almeno questo. Certo, con queste parole rassicuranti di Mara e a cui io mi unisco naturalmente, chiudiamo qui questa puntata dedicata a lei, a Mara Cascino. Grazie Mara, alla prossima occasione e un arrivederci a tutti voi alla prossima panchina. fa caldo nella città mia fa caldo con lei che balla caldo tanto quanto un forno caldo è caldo ma me la canto è caldo come il tuo impianto caldo nella città mia fa caldo caldo. esco di casa una inoltrata e già nell'aria qualcosa di un po' diverso non è più inverno.